Giovedì 8 marzo in primo piano nella TGL News, la festa delle donne a cui vanno naturalmente tutti i nostri migliori auguri. Purtroppo però non tutte possono festeggiare, basti pensare che al telefono rosa di Piacenza nei primi due mesi dell'anno sono arrivate ben 49 segnalazioni per violenze e maltrattamenti. 29 a gennaio, 20 a febbraio, quasi una al giorno, un dato davvero molto preoccupante e appunto anche i responsabili di telefono rosa invitano le donne che subissero maltrattamenti o violenze di qualunque tipo a rivolgersi a loro. Resta davvero l'allarme per questi numeri davvero impressionanti. Oggi naturalmente tante iniziative in città e in provincia per celebrare questa ricorrenza, tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. C'è però in concomitanza proprio con la festa delle donne per sensibilizzare su questo tema uno sciopero dei sindacati di base. Trasporti, scuola e sanità oggi potrebbero arrivare a disagi anche per tanti piacentini, anche in questo caso sul nostro sito. Tutti i dettagli e il modo per evitare proprio questi disagi di donne si è parlato anche ieri sera nel corso di fuorisaco quando sono stati ospitati allo spazio rotattivo i tre nuovi parlamentari, i neoparlamentari del centro-destra Elena Murelli della Lega Nord, Tommaso Fotti di Fratei d'Italia e il neosenatore Pietro Pisani, il quale ha proprio preso come primo impegno quando andrà in Parlamento quello di effettuare interventi proprio per ridurre i rischi di femminicidio e di violenza di genere. Passiamo poi a parlare di un'iniziativa della Caritas, sarà a Cadeo la casa per le pene alternative al carcere, un'opera per il giubileo che dunque continua a dare seguito a questi interventi, in questo caso si parla anche di una recente legge proprio per le pene alternative al carcere. Oggi è anche la giornata mondiale per il rene, molti hanno problemi proprio ai reni ma non lo sanno dunque il primario Scarpioni invita tutti coloro che hanno anche solamente il sospetto a effettuare screening preventivi proprio per evitare che si scopra troppo tardi questa patologia. Sono stati poi fissati, e parliamo di sport, i recuperi dalla Serie C alla terza categoria per le squadre piacentine, un Tour de Force che vedrà impegnati Pro Piacenza, Piacenza ma anche tutte le altre squadre, eccellenza promozione prima, seconda e terza categoria sul nostro sito riberta.it tutte le date, io vi rimando ovviamente anche al TG alle delle 13 e 15. Grazie a tutti!